in breve sono salito sul monte bianco in lungo skyway monti bianco parte da colmaier e arriva fino a 4.000 metri di altezza con una tappa a 2.000 dove ci sono varie attrazioni musei ristranti e cose una figata come arrivare sulla cima del monte più alto di tutta l'europa e l'ho fatto senza considerare la mancia sulla mia maglia vi spongo un po quello che vi faccio vedere quello che ho fatto due mesi fa buona visione no sta musica non mi piace no Sì Il fotografo dei matrimoni C'è il�zo No, no, no C'è il città Sì No No Eh Sì Si Sì 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 Noi spazio, non c'è bene Grazie a tutti. Oh, c'è una specie di top, non c'è cosa sia. Cioè, è tutto simile, però è al suo fascino, al suo figaggine. Ora, tipo, voglio assolutamente fare sto robo ora quando tornai qua. Guarda, ricordo che siamo là. Ok, figo sto robo, pericoloso, molto figo. I bambini non lo sanno sfruttare perché c'è. Devi tirare, poi i bambini non sanno tirare. Vieni, Lory. Comunque, dietro ci sono io, c'è il mio ginocchio. Non ci penso neanche. Non ci penso neanche. Sei pronto? Sì. Va bene? Sena, la tratera bisogna stare a cerchi perché è un bambino che è un bambino. Sì? Sì perché aveva le mani dentro l'acqua e era sul bordo. C'è rovesciata. Qui c'è lo scivolo, qui c'è un altro. Lì c'è solo. C'è lo scivolo. Qui ci sono i fiori. Vedi? Questo è vericry, cioè tipo... Questa è una challenge. Trova l'intruso. Crazy. Questo posto c'è di tutto, è veramente figo. Ti piace? Vieni. Vorrei proprio di sì perché... Stiamo continuando il percorso veri crazy. Sì, però c'è queste scarpe. Guarda queste. Ora siamo in un posto un po' più sicuro. Guarda che figo c'è. Pazzesco. Che sembra banale ma... Si torna giù. Avete ingradito l'esperienza? Molto. Bene. Eccoci. Alla signora. Qui siamo a Curva. Milanese qui. Figa. Calape. Figa. Ti sembra normale? Wow. Caratteristica. Facciamo la rapida. Cal... Beh. 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 Com'è? Buono. C'è il colicino. Lei c'è la... Buono. Si sta mangiando tutto lui. Eh? Sta mangiando tutto lui. Lui si è preso il cochino. Lei lo sprint. Mi ha fatto l'ape. Fatto? Fatto l'ape? Fatto l'ape? Certo. Tu va qua. Buona l'ape. Buonissima. balla. andiamo a ballare ci stiamo riavvicinando verso la macchina che si torna in casa che ne pensi? tu tanto la dormi vero? assolutamente tu la vai dietro e dormi ok let's go dopo due ore e mezza di macchina fermiamoci un attimo con calma ci rialziamo